Questo è Digitalia Tracing di sicurezza, non vorremmo mica lasciare morire Questi poveri bambini negli asili Esposti ai loro coetanei untori Non vorrete mica che ve li restituiamo dall'asilo dentro una bara Per cui è necessario mettere il braccialetto ai bambini I bambini, nessuno pensa ai bambini Citazione dei Simpson Allora, asilo in provincia di Varese A Castellanza, scuola paritaria Vorrei citare il nome Scuola Eugenio Cantoni di Castellanza Il quale ha avuto una certa ribalta nazionale Quando ha deciso che per il rientro dei piccoli poveri bambini all'asilo Li armerà di braccialetti elettronici Che inizieranno a fare luci e suoni Quindi cose che di solito ai bambini non piacciono neanche Ve lo confermo Dipende, se c'è la sigla di Peppa Pig può anche piacerti Ma in generale era ironico Pensa a un bambino di età asilo Che inizia a suonare ogni volta che ti avvicini all'amichetta Ma sarà una rumba E diventa un povere maestro Per fare in modo che questi bambini tengano la distanza di sicurezza Si dice il social distancing E quindi riceva una, come si chiamava, la exposure notification Direttamente tramite la Labby Light Ma non è un exposure È una distance notification Una distance notification O la proximity notification Esatto, non è che ti notifica se tu sei vicino o sei stato vicino a un malato Allora, nei modelli base funziona solo in retromarcia Ti notifica solo se tu sei vicino a un'altra persona Cioè, pensate a chi possa aver ideato una cosa del genere È una mente malata Non è quello, l'hanno già comprati È uno che vuole scoprire tutti gli amanti possibili Ma no, sono bambini questi Bambini e maestre E non traccia, suona solo, suona solo Ma no, ma... Cioè, i casi sono due O il bip bip, come dice Francesco È apprezzato dai bambini E quindi, bellissimo Diventa un gran casino e basta Oppure se effettivamente ed efficace E quindi lo stimolo negativo È effettivamente abbastanza forte Da essere dissuasore Nei confronti del comportamento Pericoloso Cioè, stare vicini ai bambini Immaginate La psiche di questi poveri bambini Che già in questo momento è messa a dura prova Porca miseria Perché comunque La socialità scolastica dell'asilo Degli amichetti Cioè, è qualcosa che È difficile l'isolamento per noi adulti Ma li fai diventare dei sociopatici Un bambino di asilo vuol dire tre anni, quattro anni Che quando si avvicina all'altro bambino All'amichetta Beh, beh, beh Ci manca solo la scossa No, 220 volte di scossa Ci manca la scossa E infatti, quella è la prossima versione Ci manca la scossa Porca miseria Una società dei sociopatici creiamo E veramente Questa cosa è veramente allucinante Perché sono curioso di capire Come può essere stata Accolta dai genitori Perché magari I genitori I genitori sono ancora a casa Con i figli anche che sono ancora a casa E non si parla di andare a scuola Quindi Anche lì questo braccialetto Che boh Si userà quando? Cioè, tu pensi a un bambino Che mandi in un asilo In cui poi questo bambino Deve mantenere Un bambino di tre anni appunto Come dice Franco Quattro anni Tre anni Quattro anni Deve mantenere la distanza Di un metro e mezzo Degli amichetti Ma questo lo stai spezzando Nell'anima È certo che lo stai spezzando Già si parlava di Avevo letto Le riaperture Con gruppetti Piccoli Fissi di amichetti Che va bene Se tu Se un bambino Hai due amichetti Allora si formano Il gruppettino Però ci sarà sempre Quello che non è stato scelto Quello che voleva andare Con gli altri amici Sappiamo C'è la scuola Ed è un qualcosa Ti sei mai chiesto Perché nessuno vuole giocare A Call of Duty con te Ma io pensavo Che fosse il Playstation Network Che non funziona Io mi attacco Cade la linea Della chat In realtà Cosa ma quando facciamo La squadra Che mi scegliete sempre per primo Ma poi cade la linea No Non è così Fai il portiere Se vuoi Alla prossima partita Di Call of Duty Ma guarda che porto la spuma Puoi fare l'arbitro Vi spacco tutti Comunque volevo aggiungere Poi una postilla A questa notizia Perché sai Sono quelle notizie Un po' strane Che magari puoi pensare Ma non sarà mica Una fake news E se vai sul Sul sito dell'ANSA A vedere l'originale C'è l'ANSA check C'è il bollino C'è il bollino C'è il bollino C'è il bollino E' verificata doc E' verificata Col blockchain Se tu vai sul bollino Col blockchain Esatto Con quella lì Con blockchain Perché tu vai C'è scritto In asilo Varese Bracciale per bimbi Che sarà un po' il titolo Rilasciata il 6 maggio 2020 Alle 8 e 10 ID News Codice di Stringa Esadecimale Di tot caratteri Ash Contenuto Quindi puoi anche Verificare Che il testo Sia corretto Notizia registrata Da ANSA il 6.5 E' registrata Nel blocco AC bla 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 Certificato ANSA check E info su ANSA check Noi non ne avevamo parlato Se non sbaglio Era una notizia Che era circolata Due o tre settimane fa Subito soprannominata ANSIA check Di appunto Questo E questa è la prima Applicazione che vedo Sapete qual è la cosa Drammatica Di queste Di queste tecnologie E che i genitori Oggi Sono talmente Esasperati Dall'essere rimasti In casa Chiusi Con i loro figli Di 3-4 anni Per due mesi Che sono disposti Ad accettare Qualsiasi cosa Pur di far ritornare All'asilo E levarseli Dalle palle Metteteli nelle gabbie Prendeteveli E questo succederà Anche non solo Per i bambini Ma anche per altre cose Perché allo studio C'è il C'è il